buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento della rubrica a tu per tu con cesare cornoldi e la rubrica appunto tenuta dal professor cornoldi per giunti scuola il professor cornoldi è psicologo professore emerito del dell'università degli studi di padova e studioso tra le altre cose dell'apprendimento e per l'appunto tiene per giunti scuola questa rubrica sulle strategie per per imparare e alla fine il professore risponderà delle domande che sono giunte dalle insegnanti degli insegnanti e per il momento io non tolgo ulteriore tempo e lascio la parola al professore bene un saluto a tutti e a tutte un ringraziamento se mi avete seguito in questi incontri e avete la pazienza di seguirmi anche oggi un ringraziamento non solo nei confronti ma anche in generale per la sensibilità che allora evidentemente avete per i temi che vi tratto in questi incontri che sono temi legati al mio approccio metacognitivo all'apprendimento in cui molto credo anche perché ho potuto vedere che funziona e ci sono anche delle prove di efficacia il tema delle strategie per imparare è vastissimo probabilmente qualche insegnante che mi ascolta avrà avuto qualche perplessità con riferimento al fatto che non ho esemplificato meglio non ho applicato dei contesti precisi ma sapete questo è un po il difetto anche degli studiosi degli accademici che sono più bravi a ragionare i termini generali o a presentare dati di ricerca ma meno proprio a calare nel concreto e le le proposte che vengono fatte quindi proprio chi c'è l'abilità dell'insegnante che vede come applicare che potrei dire magari in prima è meglio fare così in seconda colà ma non è detto che sia giusto e soprattutto che si applichi a quella particolare prima che ha l'insegnante noi abbiamo costruito tanti materiali ma io sempre detto non usate il materiale esattamente come ve l'abbiamo proposto noi perché se è vero che noi l'abbiamo approvato in qualche classe e ha funzionato non è detto poiché funzioni nello stesso modo identico però vi diamo un'idea uno spunto potete anche fare una fotocopia della scheda che noi abbiamo proposto poi però magari dire ai bambini saltate in questa domanda vi spiego un attimo questa domanda comunque al di là di queste appunto specificazioni di questi adattamenti c'è il principio generale di riconoscere che la modalità strategica sia di insegnare sia di far imparare e utile per la scuola creare persone più intelligenti più attive nell'apprendimento la cosa che mi fa dispiacere è che qualche volta per troppo zelo si vuole far fare i bambini proprio in un certo modo e i bambini vanno un po' al traino e non sono protagonisti del loro processo di apprendimento magari perdono anche tanto tempo mi è capitato di vedere dei bambini che perdevano tanto tempo per fare qualche cosa magari seguendo delle indicazioni strategiche ma calate dall'alto che avrebbero potuto fare in un momento o addirittura non fare nel senso che già erano pronti diciamo così oggi vi farò un esempio focalizzerò su questo esempio non subito fra un sette otto minuti di una strategia che può anche significare che il bambino non ha più bisogno di studiare a casa perché già imparato ecco quindi c'è un po' da tenere presente che un atteggiamento attivo nell'apprendimento può non chiedere di fare di più ma far fare meglio e chiedere quindi di fare meno l'atteggiamento attivo richiede in qualche modo che il bambino sia reattivo che riconosca la situazione e la affronti non al traino purtroppo spesso succede che i bambini vanno al traino perché sono un po' inerti, un po' stanchi, un po' così anche hanno soggezione per i consigli che vengono dall'alto e quindi poi sono anche meno motivati di fatto il famoso principio dell'autodeterminazione sono io che decido che cosa fare e come farlo tendenzialmente la scuola lo blocca perché ti dà delle consegne ma lo blocca ulteriormente se ti dice anche come effettuare queste consegne ecco un punto che oggi vedremo di carattere più generale ma è quello del ripetere rispetto all'imparare ripetere cioè un po' come dicevo seguire quello che viene detto di fare e farlo 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 più volte no? secondo il vecchio principio no? di scrivere cento volte la consegna no? che quando ero bambino io veniva applicato ecco ricordo che non è che la ripetizione vada male dopo leggerò un piccolo stralcio di una conversazione fatta da bambini di prima primaria ecco non è che la ripetere dal brutto è un bambino che si chiama Mario che dice vabbè per imparare devi ripetere ecco non è che la ripetizione faccia sempre male perché certe cose bisogna proprio saperle in certo modo no? una parola di lingua inglese la devi sapere non è che la puoi sapere a senso le tabelline le devi sapere ecco quindi ci sono cose che devono essere in qualche modo conosciute mnemonicamente perché poi possiamo usare proprio il principio dell'essere mnemonici nel senso tradizionale di sapere alla lettera ma ci sono e queste cose sono quelle in cui occorre che il bambino sia proprio pienamente padrone dell'informazione nel punto da averla automatizzata questo vecchio concetto dell'automatizzazione che si riferisce al fatto che senza pensarci tu dai la risposta 6x6 36 non c'è pensiero lo sai viene chiamato fatto aritmetico un numerico ma mi dovrebbe chiamarlo fatto aritmetico perché proprio è solo un fatto per te non ci pensi è chiaro che se tu non sai che 6x6 fa 36 ogni volta che fai la moltiplicazione scritta devi tornare a pensare come capita qualche volta a certi bambini che hanno avuto quell'insegnamento stravagante di imparare che 6x6 fa 6, 12, 18, 24, 36 è chiaro che il bambino ha la moltiplicazione scritta tra tante cose non le riesci a fare ecco e lì devi raggiungere l'automatizzazione ma per esempio nello studio di contenuti è rarissimo che tu debba raggiungere l'automatizzazione perché sono contenuti nuovi e allora nel nuovo non puoi mettere in atto tanta automatizzazione sì certo ho imparato a farmi gli schemi, le mappe, ho imparato a sottolineare e così via però ho l'impressione che se il bambino va un po' in automatico quando deve usare le strategie intanto è un po' così passivo e poco motivato ma poi non impara perché i contenuti richiedono modalità diverse di apprendere sapete che strategia è un termine militare, deriva a conduire l'esercito immaginatevi se un generale conducesse sempre l'esercito allo stesso modo i nemici saprebbero che li fa sempre così fa la finta di andare da una parte e poi fa l'altra, li accerchi e così via alla seconda volta non ci cascano più le strategie richiedono flessibilità, adattamento e cambiamento alle varie situazioni vi dicevo che oggi mi soffermo sull'esempio rappresentato da una strategia che viene chiamata dai autori di lingua inglese retrieval practice perché è quella su cui ci sono maggiori prove che proprio funziona bene e stranamente non viene utilizzata tanto quanto potrebbe ecco allora voglio spendere due o tre parole sulla mentalità sperimentale ecco che secondo me è importante avere sempre presente cioè l'idea di dire non vado a istinto o intuito di solito l'intuito ha degli elementi di supporto perché se io ho l'intuizione che una certa strategia funzioni vuol dire che in qualche modo l'ho sperimentato però ci sono due problemi il primo è che questo intuito, questa sperimentazione si presta spesso alla generalizzazione l'insegnante è visto che una cosa ha funzionato una volta ma siamo sicuri che funziona anche altre volte la seconda è che c'è il rischio di essere un po' idocentrici e il mio intuito di insegnante mi dà l'idea che funziona una cosa ma vi baso soprattutto magari sul bambino migliore della classe o su me stesso io so che per me funziona ma che ti dice che funziona con tanti bambini ecco quindi che la sperimentazione ci sorregge io raccomando sempre agli insegnanti di essere sperimentalisti cioè nel senso però di non semplicemente dire ho provato e ho visto che funziona che c'è qualche cosa di buono meglio questo che dare intuito senza averne anche provato ma anche qui è successo che ho raccolto dei dati dei dati anche semplici ma ho provato e ho visto che una volta ho provato in un modo una volta in un altro e questa volta ha funzionato meglio e questa è la mentalità della sperimentazione che facciamo anche noi noi tutti i centri di ricerca del mondo facciamo questo tipicamente abbiamo un gruppo di controllo un gruppo sperimentale un gruppo sperimentale adotta una certa strategia e il gruppo di controllo ne ha adotta un'altra vediamo quale delle due strategie ha funzionato meglio anche nelle nostre schede c'è qualche suggerimento in questo senso bambini proviamo a fare in questo modo questa volta poi mi raccontate se vi siete trovati meglio che nell'altro modo può darsi che alcuni siano trovati meglio in un modo alcuni in un altro ma avete provato concretamente a vedere quanto vi è costato studiare usando questa modalità quanto poi il risultato che sapevate questi sono i risultati della sperimentazione sono sperimentazioni se vogliono essere fatte proprio bene rigorosamente un po' pitulanti e pignole perché proprio si va a controllare tutto però questo ci conforta ecco per esempio la strategia della retrieval practice ha delle prove molto sostanziose della sua efficacia anche con tutti i distinguo del caso proprio da poco in una rivista scientifica psicologica che si chiama giornale italiano di psicologia è uscita tutta una rassegna che proprio mostra tutti i risvolti nell'uso di questi tipi di strategie legate al termine inglese di retrieval practice che noi potremmo tradurre alla lettera fare pratica col recuperare le informazioni allora veniamo un pochino a ragionare su questa strategia dando quindi prima un cenno alla strategia che consiste nel far sì che il bambino dedichi una parte abbastanza sostanziosa del suo tempo di studio non tanto a studiare quanto a vedere se sa quello che ha studiato vi leggo uno stralcio di conversazione che avviene è avvenuta in una prima che ho riportato nel mio libro Metacognizione e Apprendimento siamo in una prima l'insegnante ha invitato i bambini a memorizzare una filastrocca quindi in realtà apparentemente Apprendimento mnemonico quindi le cose mnemoniche abbiamo detto che hanno traggono profitto dalla ripetizione però sentite cosa accade l'insegnante ha presentato questa attività che insegna i nomi delle dita della mano e propone un questionario di previsione questionario di previsione chiede insomma pensi che dovrai leggerla questa filastrocca siamo a metà prima più o meno sarebbe adesso quante volte pensi che dovrai ripeterla quante volte ripeterla attenzione che ripetere è un significato molto particolare non della ripetizione del leggere più volte al fine di rispondere si discute sulla differenza tra leggere e ripetere Dario perché se uno legge la vede sempre la poesia e così non sa non è sicuro che se la sa o no invece se tu la ripeti senza guardare sei sicuro che la sai come l'hai imparata Insegnante sì ma mi sapresti spiegare cosa vuol dire l'hai imparata Luca quando hai imparato la poesia la sai senza leggere la dici così da solo e quando te la chiedono la sai e se vuoi te la ripeti da solo Alessia quando ho imparato quella parte anche mia mamma la sapeva con me e perché insegnante perché la sapeva anche tua mamma Alessia perché la ripetiva con me e l'ha imparata insegnante l'ha imparata ancora questa parola imparata c'è qualcuno che sa dirmi cosa vuol dire interviene un altro bambino è quello che ti ha detto Luca non lo ascoltavi la poesia è come se va dentro la testa nel cervello e la ricordi Mario io imparo a memoria anche le letture del nostro libro di lettura le leggo così tante volte che non occorre che dopo le leggo perché le associano avete sentito uno stralcio di conversazione e gradi diversi di maturazione metacognitiva dei bambini soffermiamoci sull'ultima battuta del bambino meno metacognitivo Mario io imparo a memoria anche le letture del nostro libro di lettura le leggo così tante volte che non occorre che dopo le leggo perché lo so già è vero che se io leggo tante volte è una cosa poi potrà succedere che anche mi sono entrato in testa ma è la strategia per bene le prove lo dimostrano chiaramente solo se devi proprio sapere le informazioni in quel modo se sei particolarmente portato a memorizzare quella informazione per ragioni tue certo se le informazioni sono i risultati delle olimpiadi io sono interessato alle olimpiadi è chiaro che leggo 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 seconda la brignone terza questo che è eccetera mi restano tutti i risultati dei partiti di calcio o i nomi di personaggi di un cartone che mi piace ma normalmente non funziona Mario non è metacognitivo le prove lo dimostrano invece gli altri bambini lo sono al di là e siamo in prima quindi capite che pensieri fanno che vengono in prima ecco al di là di questi riferimenti simpatici ma evidentemente l'insegnante è metacognitiva perché se no avrò detto quelle cose al cervello alla mente io amo hanno un significato di sfondo però ci trasmettono l'idea che il bambino ha presente che c'è una mente non c'è solo un comportamento esplicito leggere 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 sottolineare 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 per produrre un apprendimento ma c'è una mente che fa delle operazioni ma poi abbiamo sentito di rispondi precisi ecco e cioè proprio anche Dario perché se uno la legge la vede sempre la poesia e così non è sicuro se la sa o no invece se tu la ripeti senza guardare sei sicuro che la sai e questo è uno degli elementi che stanno sotto la strategia Rettrival Practice mentre diciamo di solito come dicevo già prima Rettrival con i termini recupero ecco un punto importante dal punto di vista dello sviluppo metacognitivo del bambino è capire che un nodo del sapere dell'imparare è preoccuparsi di essere in grado di recuperare no quante volte anche a noi adulti succede che la cosa la sapremo anche ma al momento buono non ce l'abbiamo pronta non la sfruttiamo non la utilizziamo perché non siamo preparati a recuperare no e di fatti uno dei principi legati al provare a vedere se si sa è quello di vedere che cosa non solo si sa ma anche si è in grado di recuperare ma nei principi di questa strategia del ripassare la mente nel vedere se si sa ci sono anche tante altre cose per esempio un punto che è stato osservato è che questo ripasso funziona bene se io in qualche modo ho già presenti le informazioni questo è ovvio voi direte perché come fa uno a ripassare delle cose se non sa niente eppure succede che qualcuno sa niente e comincia a ripassare con il libro in avanti in questo modo pensate che alcune prove di efficacia hanno mostrato che mettersi alla prova prima di aver studiato ma dopo aver sentito la lezione è molto importante perché allora si è in quel momento giusto in cui si sa abbastanza ma ancora si deve un po' studiare ecco il suggerimento che ho dato a certi insegnanti è di dire provate a invitare i bambini a studiare quello che è stato fatto al mattino all'inizio del pomeriggio cioè riaprire il quaderno o il libro si è fatto quell'argomento e ce l'ho già un po' in mente quindi me lo riguardo pensiamo laddove la verifica di un contenuto appreso non viene fatto il giorno dopo ma viene fatto dopo alcuni giorni quale bambino ha la motivazione così forte da fare già quel pomeriggio una cosa che non serve per il giorno dopo ecco non solo quale bambino quale adolescente quale adulto ecco un nodo che tipicamente si vede lo vediamo negli studenti universitari che uno comincia a studiare quando ha il pensiero il fatto che dovrà essere messo la prova su quello che ha studiato ma allora cosa fanno alcuni ed è stato anche l'oggetto di sperimentazione lo fanno addirittura in classe noi abbiamo fatto questo contenuto affrontato questo argomento e vediamo se sapreste rispondere a queste domande adesso ma non abbiamo studiato maestre appunto avete seguito la lezione avete addirittura davanti al libro se volete questo è opzionale ci sono tanti modi diversi per provare queste sperimentazioni perché quando faremo la verifica le domande saranno queste ma vediamo se le sapete già questo è che dopo vi esime dallo studiare perché l'argomento vi è noto ecco questo è un modo per mettere subito la prova questo processo di recuperare le informazioni e viene messo alla prova quando le informazioni sono ancora presenti e peraltro per soddisfazione dell'insegnante sono legate proprio alla pratica che ha fatto l'insegnante perché dopo il bambino pensa che si basa di più sul libro che su quello che ha fatto l'insegnante non mi sembra neanche una cosa bella e giusta sarei molto contento perché anch'io sono stato come so sono tuttora per un professore per un professore è molto confortante pensare che è lui che ha dato questi contenuti ecco quindi un'esperienza che potete fare come insegnante è questa abbiamo sentito la lezione vediamo se sapreste rispondere a queste domande tra l'altro sapete che l'anticipazione delle domande è una strategia didattica è una strategia dell'allievo però induce una strategia nell'allievo perché l'allievo è orientato tutti gli allievi a tutta l'età sono molto aiutati da sapere quali potrebbero essere le domande certo se il bambino ha una consuetudine con il suo insegnante ha cominciato a capire quali sono le domande per esempio ci sono certi libri che mettono di testo che lo producono già alcune domande ma l'insegnante fa quelle domande da o no capite che questo per il bambino è un aiuto perché allora nel suo studio è orientato e si prepara già a rispondere e lo tenete presente che un problema che possono avere con i bambini ma lo sapete meglio di me è che pur conoscendo l'argomento e pur in parte sapendolo recuperare poi però sono impacciati nel rispondere ma sarà contenta l'insegnante o meno come devo affrontare la risposta invece con le domande già anticipate uno sa rispondere osservando certi bambini perfezionisti ho visto che c'è un piccolo pericolo quando so già le domande perché allora preso dall'ansietta o dal perfezionismo provo a rispondere più volte bisogna appunto rendere i bambini molto elastici e flessibili hai risposto se hai visto che più o meno hai risposto bene non preoccuparti di limare la tua risposta perché dopo diventerai meccanico sapete benissimo che quando un bambino questo per esempio succede magari più spesso in preadolescenza ma vuole strafare quest'idea di prendere un bellissimo voto perché si è proprio risposto come si doveva allora ah la domanda è questa si risponde così poi riprova dopo un'ora risponde così riprova riprova dopo un po' non cercherà più di quando poi interrogato per scritto per orale a scuola non cercherà più di rispondere per quello che sa ma per come ricorda che la risposta deve essere data questa è una cosa che osservo anche degli studenti universitari è terribile capite il pericolo per quello che l'insegnante deve rendere i bambini elastici flessibili anche molto tranquilli con alta percezione di autoefficacia perché il bambino deve dire io l'argomento lo so ho risposto una volta sola ho risposto decentemente quindi vuol dire che io lo so l'argomento rispondo pensando quello che so non rispondo pensando alla risposta che va data perché allora tendo a essere mnemonico basta che un passaggio mi venga meno e non so più come andare avanti quindi tanti piccoli spunti che si possono usare anche con questa strategia chiamata di retrival practice è presente che ha tanti modi diversi c'era questo vecchio studioso di psicologia dell'educazione di cento anni fa che tra l'altro si chiamava Gates come un personaggio famoso contemporaneo che diceva tu hai un'ora per studiare dedica almeno metà tempo a ripassare con il libro come diceva per l'appunto Dario se tu la ripeti senza guardare sei sicuro che la sai che l'hai imparata quindi l'importanza di mettere alla prova la mente col tirare fuori le informazioni perché? perché come abbiamo detto spesso tu lo sapresti ma non sei pronto per tirarlo fuori o non hai le vie d'accesso all'informazione in quel momento e quindi non ritrovi le informazioni che pure hai nel cervello oppure anche se hai le vie d'accesso non hai la prontezza per tradurre in parole tue quello che comunque sai con questo esempio penso di avervi sempre sia pure in termini molto generali concretizzato una possibilità strategica che potete usare anche nella vostra pratica didattica e fermo qui vediamo se ci sono delle domande su questi argomenti che abbiamo affrontato grazie professore grazie soprattutto per gli esempi concreti che ha dato perché ci scrivono gli insegnanti ringraziandola e esprimendo commenti positivi per insomma le spiegazioni teoriche che fornisce però chiedendo appunto di esemplificare per poter comprendere meglio e per poter poi applicare quindi sicuramente molto utili e le faccio la prima domanda le chiedono lei ha detto che le strategie si possono usare per tutte le discipline può fare un esempio per la matematica sì grazie per la domanda che ritengo molto importante perché nella matematica mi pare che ci sia molto spazio metacognitivo per diciamo così giocare su strategie su atteggiamenti attivi del bambino e così via prima ho fatto un esempio che mostrava che però alcune cose le devi sapere proprio come come sono però intanto faccio presente che anche le cose che devi sapere come sono prima di arrivare a questo punto possono richiedere l'uso di strategie e poi dall'altro che la matematica ha tantissimi ambiti in cui bisogna essere strategici preciso allora tabelline quelle le devi sapere non c'è discussione no? proprio mnemonicamente però per arrivare a saperle mnemonicamente si può avere dei passaggi prima citavo un po' polemicamente quel passaggio usato da vari insegnanti che per dire 6 per 6 fanno 6 12 18 24 36 ecco se questo è semplicemente un passaggio ha un grande senso perché è vero ha ragione l'insegnante che è bambino in qualche modo è portato a pensare che 6 per 6 fa 36 perché è 6 di più di 6 per 5 che fa 30 e di fatti si è visto che anche chi sa le tabelline proprio a memoria in modo meccanico in realtà riflette e se compie un errore compie spesso un errore plausibile con un numero che è vicino a quello giusto quindi vuol dire che non sta solo compiendo un errore mnemonico ma sta facendo un errore che è legato a una rappresentazione delle quantità ecco però se il bambino si ferma a questa fase è solo danneggiato quindi può essere che ci siano altre strategie che ti aiutano un mio collega che si occupava di queste cose diceva ma sai un collega toscano diceva a me a scuola diceva 6 per seo 30 seo ecco quindi imparavano pensando a per seo se avevano appena fatto la mitologia ecco quindi in modo mnemonico scherzoso e tanti possono imparare in altri modi quindi c'è tutta la serie di passaggi strategici che possono portarti a memorizzare una cosa che va memorizzata in quel modo ma la matematica per grande parte è legata a processi attivi di ragionamento e lì il bambino è aiutato dalle strategie pensate al problem solving problem solving è diciamo così proprio la manifestazione più clamorosa della mente messa in gioco nell'essere strategica intelligente razionale problematica metacognitiva e così via perché tu affronti una situazione che ha una sua complessità e la puoi affrontare in modi tanto diversi una strategia tipica è esattamente quella di essere sicuri di aver capito il problema e in effetti è provato che tanti bambini non risolvano il problema in modo giusto perché in realtà non sono stati a leggerlo bene o non sono capaci di capirlo bene talvolta corrono via ho già capito quello che devo fare senza leggere tre righe di problema forse problema lungo un chilometro no partono in tromba come quando fanno i temi e credono già ad aver capito che cosa chiede il tema o anche fanno una verifica perché loro hanno in mente quella domanda lì ma lo vedo anche all'università comincio a fare la domanda e lo studente comincia già a rispondere ma scusi mi lasci finire la domanda ah ma ho già capito quello che mi volevi chiedere no e quindi partono per la tangente e rispondono a una cosa diversa bene quindi c'è l'aspetto del capire il problema ma c'è l'aspetto poi di individuare gli elementi salienti del problema no noi già trent'anni fa abbiamo detto mettete dentro i problemi gli insegnanti delle informazioni inutili perché così sforzi un po' la mente del bambino a andare a cercarsi le informazioni inutili e ho visto poi che è stato applicato questo principio ecco e cioè che il problema può includere altre informazioni come la vita no io devo sapere cosa pagherò per tre pacchetti di figurine ma ci sono le figurine pokemon che costano 5 euro e pacchetti che costano 6 è chiaro che la vita mi ha dato il dato 5 e il dato 6 ma io prendo solo i pacchetti da 5 quindi dopo mi farò il calcolo che i pacchetti da 5 è così nella soluzione di problemi si cerca un po' di forzare questo però capite che certi bambini sono danneggiati dalla presenza di informazioni inutili quindi la mente non vola via bene dai certi punti di vista però l'importante è che venga messo in gioco tutto questo allora una strategia è quella di dire mi tiro fuori i dati che mi servono ecco spesso gli insegnanti insegnano proprio per fare questo scrivi i dati del problema questa è chiaramente una strategia ma come dicevo prima ogni strategia se diventa ripetitiva può risultare dannosa io ho sentito alcuni bambini che facevano tutti i passaggi giusti come l'ora della maestra ho scritto i dati del problema ho riscritto il quesito il quesito è quanto poi con quei soldi quanti pacchetti di figurine potrà comprare il bambino è poi sbagliato il problema perché perché applicando in modo diciamo così anche noioso e ripetitivo la strategia dopo non ha avuto la testa sgombra per risolvere il problema ho visto un altro bambino vicino a lui che mentre il primo stava là affaticato a fare l'altro aveva scritto il risultato ha detto come hai fatto ma senti vado sempre a comprarmi le figurine lo sappiamo benissimo ho ragionato su quello che mi è successo l'altro giorno che mi aveva fatto il regalo di compleanno mi aveva dato in tutto 20 euro sono riuscito a avere quattro pacchetti ecco ho pensato se volevo tre pacchetti e mi avanzavo due euro perché questi bambini con le cose che gli interessano sono bravissime a fare matematica poi gli dà il problema questo è un vecchio principio lo sappiamo tutti dei grandi educatori del passato che ce l'hanno mostrato questo ecco capite quindi che l'aspetto strategico può essere usato nel tantissime matematica perché devo essere strategico ma devo anche capire qual è la strategia giusta penso a quello che mi è successo l'altro giorno mi scrivo i dati di problema dipende dai casi mi ricordo che il secondo bambino quello che aveva già scritto il risultato ha detto però sono terrorizzato perché dopo la maestra dirò che ho sbagliato perché hai sbagliato è perché non ho fatto come vuole lei e allora adesso lo faccio ma come hai già scritto la soluzione ah ma lo faccio perché sennò dopo la maestra non è contenta quindi gli insegnanti invece incoraggiate la elasticità la flessibilità visto che questo tema della matematica mi stimola molto mi ricordo l'esempio più classico molto più elementare di proposta di strategie di discussione e strategia anche questo è un esempio di cui ho parlato con due bambini tra l'altro pensate che uno dei due bambini in prima e uno in terza ma uno in prima e stavamo discutendo su come fare 23 più 18 e sì certo bambini svegli ma è stato bello perché abbiamo trovato tanti modi diversi quindi proprio a sostenere questo la piccolina dice 23 più 18 sa neanche contare bene fino a 41 come si potrà fare però insomma è avanti quindi la faccia la faceva e potrei far così ma non mi conviene eccetera l'altro dice no io faccio 20 10 e poi aggiungo 3 aggiungo 8 ma sei sicuro di tenere in mente le informazioni se no allora me lo scrivo e se non ti lascio scrivere allora potrei fare 20 più 18 e poi ci metto 3 pensate tutte le strategie diverse che possono avere l'altra che ovviamente non arrivava a questi punti di eccellenza strategica ma era lì tutta però che guardava il bambino più grande che faceva tutti questi ragionamenti quindi l'ambito della matematica si presta moltissimo e quindi suggerisco sempre di stimolare il pensare con la testa che diventa anche divertente perché questi bambini lo facevano per il gioco con me dopo magari la stessa attività la dovevano fare come compito per casa ed improvviso non volevano più farla ma invece il gioco con me si divertivano a fare 23 più 18 perché ho scoperto che ai bambini la matematica piace moltissimo ecco e la piccolina era interessata anche lei a vedere questi passaggi c'è 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 è vero e così seguivo un po' il fratello perché poi questi due bambini sono fratelli e sorelle ecco quindi per dire queste situazioni applicate alla matematica ma chi mi ascolta sono sicuro che ne emite tantissime altre grazie professore le faccio subito la seconda domanda che è arrivata le chiedono buonasera che rapporto c'è tra capacità di comprensione e capacità di imparare grazie per la domanda che è proprio una domanda classica e del dell'imparare e dello studiare qui siamo però in generale di tutto l'imparare e mi permette di collegarmi a quanto dicevo cioè al fatto che il mnemonico lo sappiamo va evitato il più possibile è vero certe cose sono mnemoniche quindi e non solo nei bambini ma anche negli adolescenti pensate anche su aspetti linguistici perché diventa mnemonica una tabellina diventa mnemonico un termine in lingua straniera esempio che facevo prima ma anche aspetti linguistici possono diventare mnemonici e piacere perché piacciono le poesie imparate a memoria e tanto più se non le hai capite non dico neanche più come cominciava e fu siccome immobile dato il montare spiro o sospiro che lo sa perché sono mnemonico anch'io ricordo queste poesie imparate da adolescente o anche la nebbia gli irticolli a questi nostri tipi più vicinando sale a me piaceva musicalmente non è che poi stessi attento all'esatto senso delle parole quindi è vero che ci sono anche componenti mnemoniche che non passano per il significato perché perché poi le devi sapere proprio letteralmente però tipicamente lo studio richiede prima di aver capito se no fai fatica a calciare dentro il test e lo calci mnemonicamente ma come si diceva prima basta niente perché poi la memoria salta mentre se sai in un modo o nell'altro ma la comprensione è una chiave di volta per imparare oltretutto più capisco e se si dice no abbiamo detto che noi più elaboro in profondità il significato più dopo l'ho capito bene lo so e poi non importa come lo dirò una volta lo dirò un'altra perché basta che sappia dirlo e anzi la flessibilità dell'esposizione si presta a tante modalità diverse perché mica so poi come mi viene fatta la domanda magari viene fatta dopo che è stata fatta un altro e quindi devo agganciarmi alla risposta dell'altro e così via quindi insomma devo essere molto flessibile nel riportarmi e tutto questo ha come premessa che abbia capito l'informazione ecco tipicamente quando si parla di strategie di studio si pensa al momento dell'imparare del mettere in testa e memorizzare però anche la comprensione è strategica quindi è da tenere presente questo per esempio ho implicitamente detto che quando io studio mi focalizzo sulle informazioni principali no? sul polineo mi faccio delle frecce penso a quello che mi ha detto l'insegnante e così via ma l'interessante è che anche quando capisco e quando leggo in realtà mi focalizzo sulle informazioni principali ovviamente su molte più informazioni perché sto leggendo cercando di capire ma è interessante che anche il processo di lettura finalizzata la comprensione è strategico perché noi diciamo che in generale non è bene che quando uno studia legga ad alta voce e se lo fai solo per superire al fatto che è in difficoltà ecco perché anche il leggere per capire e per imparare è selettivo quando si fa lettura silentes lo si vede non so se voi segnanti siete familiari con la registrazione dei movimenti oculari del lettore silente è molto interessante ci sono queste tecniche che ti riflettono dove stai guardando con l'occhio ecco immaginate anche voi adulti di leggere un testo se io poi vi intervisto e vi dico l'hai letto tutto o solo qua e là tutto l'ho letto bene ti faccio vedere i tuoi movimenti oculari e le tue fissazioni oculari vedi in questa riga tu hai avuto una sola fissazione oculare non puoi dirmi che hai letto tutto hai letto un solo punto è vero che l'occhio prende circa un 25 letterine però la riga ne ha 200 di letterine quindi 150 quello che è dipende dall'ampiezza della riga tantissime altre cose che sono al di fuori non le hai viste ma poi oltretutto nella tua fissazione le letterine periferiche non le hai viste bene hai capito se la parola era lunga o curta e stavi leggendo e sei convinto di avere letto tutto nella tua fissazione poi il movimento dell'occhio sapete che non registra praticamente niente perché dura pochissimi millesimi di secondo la fissazione può durare un quarto di secondo che comunque poco è di sotto la soglia della coscienza per quello che il lettore non si rende conto di quello che esattamente ha visto ma tu hai solo guardato un punto vedi che nella riga sotto hai avuto ben quattro fissazioni perché evidentemente tu nella tua lettura silente tranquilla potevi anche leggere un romanzo un libro di studio quello che è lì hai bisogno di raccogliere più informazioni quindi capite che anche la semplice lettura ai fini di comprensione è strategica quando tu dici legge ad alta voce invece no hai letto tutto hai visto tutto hai dato tutto la stessa importanza la mente passiva meccanica più meccanica ecco dirà anche dello sforzo fisico di leggere ad alta voce ma non c'è selettività non c'è è interessantissimo ma lo si vede anche nei bambini ogni fissazione dell'occhio ha una durata diversa è impressionante e di solito c'è una logica perché una fissazione durata solo 200.000 secondi o una 350 perché strago informazioni diverse pensate che c'è un famoso vecchissimo articolo che si intitolava un secondo di lettura di lo scientifico diceva in un secondo di lettura la mente fa tante di quelle cose applica tante di quelle strategie che non si può immaginare perché la nostra mente è potente efficiente e tantissime cose le fa a livello diciamo così preconscio non perfettamente consapevole certo quando era in prima il bambino avrà progressivamente introvizzato queste cose e le avrà fatte con tempi più lunghi ma piano piano già a fine prima seconda terza quarta quinta diventa sempre più strategica anche nel momento in cui legge per capire se tu hai capito hai una premessa giusta per poi anche imparare memorizzando studiando quel contenuto che hai capito come riprendendo l'esempio che facevo prima se poi tu hai capito chiudi il libro e vedi che sai hai anche imparato altre volte no magari informazioni precise l'organizzazione di certe informazioni richiedono un passaggio in più allora io le farò l'ultima domanda che riguarda lo strumento della sottolineatura in particolare ce lo fa le sottopone questa domanda la maestra Antonella che ha seguito il webinar il suo webinar della scorsa volta e ci dice appunto che i suoi alunni e le sue alunni si sono approcciate da poco allo studio e finora ha suggerito lei cosa sottolineare però si chiede se non abbia sbagliato e quindi le chiede buonasera vorrei chiederle come gestire lo strumento sottolineatura con gli alunni di terza e la scuola primaria allora la sottolineatura è una strategia di sicuro però dai risvolti un pochino incerti infatti anche nelle prove di efficacia si vede che non è che funzioni tanto come avete capito la metodologia che usa i ricercatori è quello di dire voi bambini sottolineate in un modo che vi dico io o come volete voi voi bambini non sottolineate gruppo di controllo verrebbe chiamato voi bambini usate un'altra strategia freccette schemino eccetera non è che i bambini che sottolineano risultino poi sapere meglio ecco quindi in generale non è una grande strategia però avete capito che il mio punto di vista è quello della flessibilità del bambino quindi qualche volta ti fa comodo sottolineare ecco al di là il fatto che poi ogni strategia ha degli effetti collaterali per esempio uno che sottolinea è sicuro che sta leggendo perché va avanti con la matita quindi insomma non si è perso via non sta guardando la televisione eccetera ma in sé la strategia può avere qualche piccolo beneficio sempre che sia usato in modo flessibile un vecchio principio che penso sia noto agli insegnanti che mi ascoltano è che i bambini imparano certe cose se lo vedono fare anche da altri un po' più esperti di loro un compagno un po' più esperto no ti c'è t'aiuto io a studiare oggi guarda ci sottolineo io però bisogna che anche il compagno esperto non conosca l'argomento se no sottolinea perché sa già le cose che trova attenzione uno dei problemi della strategia è sottolineare perché non so che cosa effettivamente risulterà importante o meno perché non ho ancora letto tutto il contenuto a meno che abbia presente la lezione dell'insegnante però anche lì il pericolo che io sottoline le cose che so già ho proprio visto alcuni anche adolescenti che studiavano e gli ho chiesto ma perché sottolineo queste cose perché so che sono importanti ma le sapevi sì e dopo quando fai ripasso vai a vedere le cose sottolineate che in realtà sapevi già o le altre tutti i risvolti e sottolineare ma parlandone con i compagni o vedendo uno che ti esemplifica le cose da sottolineare sicuramente in qualche modo interiorisi una modalità di sottolineare infatti appunto un insegnante dice ma leggiamo il testo di studio e vediamo dove potremmo sottolineare capite che da un esempio attivo una cosa che sorprende è che molto spesso le strategie nascono dal nulla e ognuno non ci ha mai pensato la fa la usa no lo chiedi anche ad adolescenti ma perché tu studi in questo modo noi abbiamo un centro per i bambini con difficoltà di apprendimento e fra le prove che proponiamo proponiamo una prova di studio per mezz'ora devi studiare questo testo dopo ci sarà una pausa poi vedremo che cosa ti è rimasto del testo che hai studiato ma osserviamo e tu vedi che vanno un po' a ruota libera nel sottolineare ma perché hai sottolineato così oh non lo so ma mi è venuto da fare in questo modo e loro sottolineano più volte e così via ma è singolare che un comportamento non sia nato da nessun insegnamento e soprattutto che uno non sia mai posto e se questo comportamento è funzionale o meno è incredibile gli studenti che studiano per 15 anni della loro vita e non hanno mai fatto una piccola riflessione e esperienza su come può essere utile studiare è una cosa che sembrerebbe insensata è come se io facessi una certa sottolineare che si può fare in tanti modi differenti e non avessi mai cercato di pensare quale sia il modo migliore per farlo nessuno mi avesse mai insegnato a farlo la sottolineatura è un esempio di questo tantissimi sottolineano ma nessuno gli ha mai fatto fare prima una prova proviamo a vedere come sottolineare io sottolineerei così e così ma che scopo stiamo sottolineando perché per esempio lo studente che sottolinea le cose che sa già che ritiene più importanti potrebbe avere lo scopo di dire dopo però non guardo più il testo il sottolineare mi serve per ribadire che sono le cose importanti cioè mi serve in fase di elaborazione oggi abbiamo parlato di recupero ma se il sottolineare mi serve in fase di recupero per ripassare le cose più importanti o vedere se le sapevo allora è assurdo che io devo tornare a vedere le cose che so già tra l'altro sviluppo una mente banale ripetitiva che si focalizza sulle cose che sa avrei dovuto sottolineare quelle cose quelle quali dovevo stare attenti e anche capire perché scopri o spettacolo questa sottolineatura quindi in terza tra l'altro gli alunni sono in grado di sviluppare questa sensibilità al sottolineare ecco e l'insegnante può dire ma mi ha fatto vedere questo succede anche in università qualche volta il professore dice ma mi faccia vedere prendo pure il libro di testo se non sa rispondere un'ottima modalità anche di fare gli esami in certi casi ecco può pure rispondere con il libro perché già nella vita lei potrà avere il libro no? per esempio deve usare un certo strumento noi psicologi non usiamo tanti test tanti strumenti ma sarebbe insensato se lei usasse questo strumento senza avere davanti il manuale il testo che dice come si usa quindi io l'autorizzo aprirsi il testo ecco va bene può succedere questo ma lo dicevo perché dopo apre il testo lo studente è intonso ah tu dici adesso non è anche studiato ecco quindi è vero che siamo portati a pensare che un testo tutto scrivatiato è sporcato è stato maggiormente studiato però non è detto che sia così ecco tra l'altro magari questo studente aveva fatto degli schemi ecco di fatto mi rai lo studente dice ma scusi professore ma io dal libro sono passato degli schemi mi permette allora di usare anche gli schemi e il professore insensato dice no ma se lui ha studiato usando gli schemi il poverino dovrà pur poter consultare gli schemi dopo nella vita visto che ci sono un manuale di un testo magari di 150 pagine avrà anche questa facilitazione solo se lui l'ha studiato veramente riesce a utilizzare lo schema però dipende dai casi tutto questo non esistono regole un professore intelligente un insegnante intelligente sa quando è sensato consentire di guardare lo schema e quando invece è un consentire di rispondere non sapendo l'argomento bene tutto questo per dire che la sottolineatura così come tante altre strategie ha tantissimi risvolti differenti ma questo è proprio il principio che cerco sempre di trasmettere non esistono regolette l'alunno intelligente e gli insegnanti intelligenti aprono le menti del proprio o dei loro allievi rendendoli sensibili attenti si chiama talvolta sensibilità metacognitiva questa capacità di dire come mi conviene affrontare l'argomento come secondo me potrei raggiungere il massimo dei benefici col minimo dei costi quindi sapere senza stare lì a diventare ripetitivi che poi dopo l'argomento non mi interessa più lo so in modo meccanico così via proprio come essere strategico nel modo giusto in questo caso allora chiaro che la sottolineatura è una risorsa in più perché non dovrei usarla se vedo che mi funziona ma basta che non sia ripetitiva no? ecco quindi quando invece uno sottolinea tutto legge legge sottolinea tutto sottolinea così un po' per esempio le parole che sono già in eretto ma perché non faccio mai un ragionamento sulle parole in eretto nel vivo che studio non faccio mai non lo so alunni alunni lo fanno ma tu fai l'intervista e dice ma hai notato che parole che alcune parole sono in eretto ti guardo magari implicitamente l'ha notato però dopo lo osservi come vi dicevo noi no abbiamo queste prove di studio quindi andiamo a vedere vorremmo anche usare questi apparecchietti che registrano dove va l'occhio ma anche se non si usano questi apparecchietti lo si sta semplicemente ad osservare tu lo vedi vedi quello che va avanti sottolinea sottolinea ma in modo così ripetitivo vedi quello che è molto più elastico ti fa delle frecce ma ne fa poche perché dopo alcuni argomenti dice che li sa già altri invece ossessivi che lo fanno in modo proprio rigido e ripetitivo perché bisogna fare mai pensare che bisogna niente bisogna farlo mi è utile farlo mi aiuta a imparare meglio questi sono un po' degli spunti che possiamo applicare al caso della sottolineatura grazie professore grazie per aver risposto in maniera puntuale e dettagliata alle domande degli insegnanti e come sempre i suoi webinar risultano preziosi e utili per gli insegnanti che ci seguono come dimostrano anche i messaggi estremamente positivi che ci arrivano e io quindi la ringrazio a nome di Giunti Scuola ricordo a tutti tutte le docenti e tutti i docenti che ci seguono che possono trovare le registrazioni dei suoi webinar della rubrica Tu per Tu con Cesare Cornoldi sul sito Giunti Scuola nella sezione dedicata alla formazione e quindi io la ringrazio nuovamente e saluto tutte tutte le persone che ci hanno seguito e arrivederci arrivederci Grazie a tutti